In una stazione si entra regolarmente dal cancello che è aperto, si va sulla banchina ad aspettare i treni, eccoli qua, e si va a vedere che qui c'è il quadro che ormai invece purtroppo è un riperto di archeologia, il quadro controllo della stazione. Perché? Perché questa è l'ex stazione, se ci giriamo lo vediamo, c'è il ponte sul Brenta, quindi è Ponte di Brenta, una stazione che avrebbe ancora una sua dignità, ma una stazione che è lasciata, come potete vedere, all'assoluto degrado. I galloni di stazione glieli avevano già strappati nel 2006, quando la povera stazione padovana di Ponte di Brenta fu degradata, senza colpe particolari, a quella che nell'orrido gergo ferroviario viene denominata come fermata, impresenziata. Insomma, non c'era nessuno e ti dovevi arrangiare. Poi nel 2015 la chiusura definitiva a favore di Busa di Vigonza, che, intendiamoci, non è la Grand Central Station della riviera del Brenta, anzi. Ora, là dove c'era un parcheggio, ecco l'erba. Forse unico caso di ritorno alla natura di tutto il Veneto, ma al di là della battuta, l'intera zona si è trasformata in anni di degrado, in un luogo di spaccio, di malaffare, di abbandono, tra discariche abusive e paradigma di periferia abbandonata. Ogni stazione che si rispettasse aveva il suo telefono a gettoni, ma che gettone mettono i cittadini per chiamare le istituzioni e poter chiedere appunto qualcosa per questa stazione? Dovrebbe essere un'identità storica del territorio. Siamo a ridosso del fiume Brenta, per cui dovrebbe essere ricavato uno spazio museale che racconti la storia delle ferrovie, delle piccole stazioncini del territorio e poi del Brenta. Quindi questo degrado che noi stiamo assistendo da alcuni anni fa veramente male al cuore, perché è inaudito che si riduca uno stabile storico in questo modo qui. Allora chiediamo alle istituzioni preposte, non solamente alle ferrovie dello Stato, ma appunto sia all'amministrazione comunale che alla provincia e alla regione che si mettano una mano nel cuore e si riesca a trovare una soluzione per dare dignità ad uno stabile che può raccontare una storia. Quindi un piccolo museo che possa servire, diciamo così, proprio da ricordo della memoria del territorio. I treni sfrecciano sempre a Ponte di Brenta, dove l'antica dignità di una stazione resta testimoniare archeologia del presente l'incapacità di evitare che un edificio pubblico si trasformi in un monumento all'abbandono.